Grazie, ringrazio un po' tutti coloro che sono intervenuti a questo convegno, a questa iniziativa, in particolare voglio ringraziare l'amico Paolo Pasini e vorrei anche prendere l'occasione per ringraziare il moderatore Antonio Cianciullo per questa introduzione, io mi scuso, avevo già programmato la mia presenza a Palermo, ma spesso la vita determina condizioni che vanno oltre la volontà degli uomini, quindi sono lieto di potervi, seppur a distanza da Milano, dare il benvenuto in fondazione e credo che il luogo dove vi trovate sia un'emblematica rappresentazione di come la sostenibilità può avere anche diritto di cittadinanza in maniera significativa e autorevole in terra di Sicilia. La sostenibilità non è soltanto un tema che riguarda l'ambiente naturale, ma riguarda un rapporto molto stretto tra il naturale e il costruito e il rimettere fisicamente in piedi e renderlo vitale una struttura come quella di Palazzo Branciforte nel cuore del centro storico di Palermo è un esempio certamente abbastanza significativo anche per i tempi e le condizioni della sua realizzazione di come la sostenibilità può diventare oltre che un progetto anche una ipotesi di realtà vissuta e vivente. Da questo punto di vista devo dire che anche molte delle iniziative che vengono attuate dentro Palazzo Branciforte sono state realizzate sotto la guida di Gaia avulenti anche in una chiave di modello possibile di uso e di contenimento energetico, quindi anche questo mi piace sottolinearlo. Io vorrei anche in questo modo introdurre due battute sul tema del vostro incontro, oggi io credo che lo sviluppo economico di un Paese ma anche di una Regione siano legati soltanto alle risorse necessarie di tipo finanziario ma sono legate anche ad una dimensione di diversa organizzazione dell'amministrazione pubblica e privata in funzione di reperimento di risorse che possono essere destinate per la crescita e per lo sviluppo anche in direzione di una valorizzazione del capitale umano, in particolare del capitale umano giovanile, in particolare di quello che è oggi lo sviluppo di un territorio in funzione dei suoi abitanti o di coloro che ospiti lo raggiungono e ne diventano gli abitanti stabili. La Sicilia io vorrei anche sottolineare come per vocazione naturale anche per vocazione storica ambientale è definibile la terra del sole. Palermo nel suo nome Panormus è la città tutta Porto e il rapporto di Palermo con il mare, terra e mare, si coniuga proprio con la utilizzazione al meglio della cultura del sole. Non a caso la conca nella quale è incastonata Palermo è chiamata la conca d'oro perché era la conca degli agrumi, la conca dove il sole aiutava a una crescita rigogliosa di tutto il territorio, di tutta la natura che circondava il porto di Palermo, il tutto porto di Palermo. Purtroppo di questa conca d'oro ormai abbiamo soltanto un pallido ricordo perché la cementificazione ha fatto il suo danno, ma io credo che una nuova cultura e questo mi sembra il dato importante del vostro convegno quando si parla di protagonismo dei cittadini, una nuova cultura che parta da una diversa aggregazione di interessi che siano interessi positivi, interessi sostenibili. In una terra in cui purtroppo spesso questi ambiti finiscono con l'avere degli sconfinamenti in ambito di interessi non del tutto corretti e qualche volta di stampo mafioso può essere importante anche in particolar modo se si rivolge ai giovani, quindi parte dal mondo delle scuole, parte dal mondo delle università, avvia processi di formazione come è molto ben evidenziato nella carta del sole che anche la fondazione ha deciso di sottoscrivere e che porta avanti un progetto che è un progetto in itinere. Io ho sempre paura dei progetti che sono dei libri dei sogni, tutti scritti dalla prima pagina che poi alla fine vedono nell'ultima pagina solo la fotocopia della prima. Credo che un progetto interessante e significativo è un progetto che invece si sviluppa crescendo progressivamente dal suo interno e assumendo al suo interno il meglio che viene dalle suggestioni esterne. Quindi credo che da questo punto di vista la scelta che voi avete fatto di Palermo, la scelta che avete fatto della Sicilia come caso esemplare per un'operazione del genere sia estremamente interessante. Palermo ha una caratteristica, quella di essere la città del sole ma anche quella di essere la città dei beati paoli, cioè la città delle grotte, del sotterraneo, dei camminamenti sotterranei. Io credo che sia interessante oggi, quando l'età dei beati paoli, per fortuna la leggiamo soltanto in letteratura, riscoprire il gusto della solarità, ma fare della solarità una leva per lo sviluppo economico, fare della solarità una leva per la crescita e per l'occupazione a tutto campo. Vedo che oggi Cianciullo dovrebbe intervistare i candidati alla Presidenza della Regione, mi auguro che da queste interviste vengano fuori delle suggestioni positive e non soltanto dichiarazioni di principio volte a raccogliere voti. Il problema oggi non è raccogliere voti, il problema è guardare la Sicilia come un grande laboratorio di sviluppo. Ahimè, temo che questo sia un tema abbastanza sensibile che bisogna ancora stimolare a partire da chi ha la responsabilità di svilupparne le condizioni e i risultati. Io vi ringrazio, mi permetto soltanto di invitarvi a un riferimento artistico, vedete il quadro che è alle mie spalle, che sto mostrando, che è opera dello stesso artista che ha dipinto il tetto della biblioteca di Palazzo Branciforte di Ignazio Moncada. Penso che i temi li ritrovate se voi poi ricordate questa immagine e andate a riguardare nella visita che farete come da programma al Palazzo e quindi alla biblioteca del Palazzo. E anche questo è una maniera di valorizzare una cultura dell'immagine ma anche e soprattutto la creatività senza frontiere, ricordando che Ignazio Moncada è un artista palermitano che vive a Milano e questo è il messaggio che voglio lasciare ringraziandovi per l'attenzione, scusandomi ancora per l'assenza. La progettualità, la positività, la sostenibilità non hanno frontiere, l'importante è che abbiano dei porti dove ancorarsi per poter cominciare un viaggio che poi diventi il viaggio della speranza ma anche il viaggio della realtà e della concretezza. Grazie dell'attenzione, scusatemi se ancora una volta sono stato presente ma solo virtualmente. Accendiamo. È già acceso. Presidente Puglisi, sono Gianluigi Angelantoni, la saluto, la ringrazio di questo suo messaggio, la ringrazio anche e soprattutto per l'ospitalità in questo magnifico palazzo di cui abbiamo già visto qualcosa e dopo vedremo sicuramente le cose ancora più belle. Solamente una cosa, volevo cogliere quello che lei ha detto del sogno. Noi vogliamo concretizzare questo sogno, il nostro sogno non è certamente solamente un'utopia, la cucina del sole, come lei l'ha chiamata, è sfociata in questa carta del sole e la ringrazio di aver aderito con la sua fondazione e quello che le chiedo è cortesemente se ci darà ancora il suo supporto come ci ha dato in questi giorni nell'organizzare questo convegno, nel concretizzare, dicevo prima, nel continuare questo rapporto tra amministrazione pubblica e privata, nell'aggregare quegli interessi di cui lei ha parlato, interessi del tutto legittimi ovviamente, e nel consentire lo sviluppo del territorio e delle persone che abitano in questo territorio. Per cui le chiederemo il supporto per organizzare qualche altro incontro, proprio per dare un seguito concreto a quello che oggi abbiamo presentato, forse ancora in una forma teorica, ma che certamente vogliamo continuare a portare avanti. Le voglio dire che la fondazione sarà lieta di ospitare i vostri gruppi di lavoro per dare concretezza a questo progetto, quindi o nella sede di Palazzo Branciforte o nella sede di Villa Zito noi saremo lieti di accogliere i vostri gruppi e i vostri lavori, auspicando che questo sia funzionale alla realizzazione di questo sogno vostro e nostro. Grazie a te, grazie a lei. Grazie a lei, le passo.